non ha segnato, non ha segnato, il calcio è salvo, il calcio per stasera è salvo, non ha segnato, non ha segnato, il calcio è salvo, è salvo signori, non ha segnato, è salvo, era in campo, non ha segnato io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto che questa sarebbe stata la partita di Tino, questa era la partita di Tino, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto lo sapevo, lo sapevo, 4-0 per la Salernitana, coi cazzo, coi cazzo, perché prima è la Coppa Italia, seconda è una squadra che non hai mai incontrata e che non gioca in Serie A in questo momento terzo tu giocavi praticamente con tutte le riserve che ti avevi in campo, manca poco, quarti Benevento ci aveva proprio niente da perdere e quindi andava a stecca passati, siamo agli ottavi di finale, siamo agli ottavi di finale contro il Napoli, beh c'è tanto da dare alle grassi, però comunque ragazzi avevamo vinto questa partita importante, perché comunque per la nostra stagione è una partita importante, dovevamo portarci a casa a tutti i costi mi è piaciuto comunque l'atteggiamento della squadra, levato magari la defiance dal 65esimo, 70esimo in poi, perché poi li aiuto però soprattutto al primo tempo mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, perché comunque gente in campo che giocava a titolare era veramente poca, praticamente nessuno, cioè c'era Milenkovic, c'era Caglion, se lo vogliamo considerare un titolare c'era Sottil, Malé, ma Malé ora lasciate perdere ha fatto Dugon nelle ultime due partite, ma non rientrava praticamente mai nei piani di italiano fino alle ultime due partite, quindi era quasi, quasi un full turnover, quasi quasi un full turnover, e comunque la Fiorentina ha giocato bene, io ho visto dei talenti vogliamo dire insomma quello che ci piace anche vedere, perché comunque è bello vedere anche nelle squadre fare la rotazione insomma con i giocatori e nelle partite un pochino così diciamo in sordina, vedere anche qualche bel giocatorino in campo innanzitutto in attacco, innanzitutto in attacco c'era è salvo, il calcio è salvo, non ha segnato, non ha segnato, c'era Cocorin, c'era Cocorin un momento in cui era da tu per tu col portiere in diagonale, fra un po' la butta dentro, lui moriva in calcio è lì, morto e sepolto, un peggio della conferenza, lì morto e sepolto, proprio la tomba, epitaffio con scritto 2021, basta, lì moriva in calcio e poi signori ho visto delle buonissime individualità stasera buonissime individualità intanto, intanto, lo facciamo tutti insieme un plauso al nostro terzo portiere, signori al signore, al signor Adriano Celentano, lo facciamo un plauso al signor Adriano Celentano signori, Antonio Rosati, l'uomo spogliatoio, l'uomo squadra oh, Tonio insomma, cazzo, tu dai più sicurezza a te che tu sei un terzo portiere di qualche portiere in serie A cioè, per dire, è comunque, vero, ex Napoli, comunque, cioè, insomma, non è l'ultimo arrivato però, comunque, cominciava in la sua età il partito titolare non le vede nemmeno in quel binocolo ora, con il fatto che si era fatto male Dragoschi, giustamente, Terracciano era il portiere titolare quindi lui diventava, tra virgolette, il secondo e quindi in Coppa Italia doveva giocare lui signori, Tonio Rosati ha fatto due o tre parate decisive è perché il Benevento è stato pericoloso tantissime volte anche più di noi, se vogliamo, soprattutto il secondo tempo il primo tempo no, perché il primo tempo, comunque, insomma, si faceva la nostra partita si giocava, l'è finita 1-0, ma si poteva finire anche di più, tranquillamente il secondo tempo, invece, sinceramente, l'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto particolarmente non mi aspettavo niente di diverso, perché effettivamente tenere un gioco del genere 90 minuti di gente che non ha mai visto il campo, o comunque l'ha visto poco e niente non mi aspettavo, appunto, niente di meno però, allora, ho visto delle buonissime individualità insieme a Rosati ho visto, vabbè, il solito Igor, che comunque lo sappiamo ha fatto diverse chiusure decisive oggi, ma è passato particolarmente rispetto al campionato ma è vero anche che sarà contro il Benevento che onore a loro, c'è da dirlo comunque hanno giocato una partita ottima, comunque ottima considerando che è una squadra da Serie B anche se sta facendo bene in Serie B ma è comunque una squadra da Serie B onore a loro, spero magari di rivederli il prossimo anno in Serie A perché quest'anno la Serie B è anche bella da vedere tra virgolette, perché ci sono veramente delle ottime squadre che l'anno prossimo, insomma, in Serie A vorrebbero far vedere anche qualcosa di carino vedi Pisa, vedi Brescia, vedi Lecce, cazzi vari e poi, vabbè, a parte il solito Igor Terzic, ragazzi Alexa Terzic Alexa Terzic ridendo e scherzando non ha fatto una brutta partita ma per niente, eh è vero che Biraghi è il titolare innamovibile il capitano, il capitano, Cristiano sum, sum, sum più strano Ronaldo e Cristiano Biraghi però Alexa Terzic non mi riesci a dirlo ma poi gli L2, ragazzi, scusate sono tornato ora agli L2 Alexa Terzic Alexa Terzic Alexa Terzic, ragazzi mica male cioè non ha fatto per niente una brutta partita poi, vabbè, c'è sempre il solito venuto in campo mi dispiaggio, tra l'altro, per Pulgar che si è fatto male speriamo, insomma, non sia niente di grave al suo busto è entrato anche bianco quindi comunque si è visto anche un pochino il qualche, qualche un po' di personalità di questo ragazzino si piglia anche un giallo facendo un fallo tattico insomma, anzi, scusate buttando via il pallone insomma, non male ragazzi, la cosa poi, vabbè, in attacco Aglion bene sottile bene insomma, le sappiamo male è bene insomma, l'abbiamo visto ragazzi, io però rimango rimango Kokorin, come ho detto prima non mi aspettavo niente ma rimango rimango male ve lo giuro rimango male ma particolarmente male di Amrabat io ragazzi, ve lo giuro rimango malissimo a mani basse il peggiore in campo peggiore in campo Kokorin non lo conto neanche peggiore in campo peggiore in campo cioè non dà sicurezza quando ha palla al piede non sa proprio cosa fare si gira si rigira non sa chi darla c'è stato dei momenti in cui teneva palla 10 secondi 15 secondi senza sapere a chi darla e manca poco quando la dà sbagli il passaggio cioè passaggi sbagliati aperture completamente sbagliate per nessuno nella terra di mezzo tra il terzino e l'esterno insomma un giocatore perso cioè che si è completamente perso io me ne dispiace particolarmente non so voi cioè a me era un giocatore che piaceva tanto era un giocatore che piaceva tanto ora bisognerà vedere cosa avrà intenzione di fare la società io personalmente non lo darei via o perlomeno lo manderei in prestito a rifarsi un pochino le ossa lui particolarmente perché era un ottimo era era un ottimo giocatore non è neanche l'ombra come Castrovilli non è neanche l'ombra di quello che era è vero che adesso non giocando più stando praticamente fisso in panchina non è neanche l'opportunità di darti continuità cioè che l'allenatore ti dia continuità ma effettivamente in campo c'è entrambi se ne giocano tre ci se ne ha 350 quindi tra l'altro anche Benassi oggi ha giocato nemmeno troppo male non l'avevo detto e quindi niente ragazzi fatemi sapere la vostra sotto nei commenti a parte questo italiano comunque mi è piaciuto l'atteggiamento anche comunque personalità da parte dell'allenatore che ha tenuto Cocorini in campo 70 minuti già per quello medaglia praticamente medaglia coccarda medaglia onoreficenze qualunque cosa ci si vorrà ricordare che l'allenatore più eroico di questo mondo ha fatto giocare il calciatore più scarso della serie A e anche forse della serie B ma anche senza forse e guarda non ci metterei nemmeno male sulla serie C insomma diciamo da prima seconda categoria eccellenza già non ci siamo e ragazzi ragazzi siamo passati fatica lo sapevamo io perlomeno lo sapevo chi aveva pronosticato 3-4-0 lo sapevo lo sapevo ragazzi lo sapevo 3-4-0 coi cazzo e niente ragazzi fatemi sapere la vostra sotto nei commenti mercoledì sera partita di Coppa Italia ottimo per carità di Dio ragazzi la live reaction non la potevo fare vaffanculo vabbè dai testa la prossima aspetta il calcio è ancora vivo